Lo sci club Valle Antigorio ha organizzato la prima giornata intitolata On Road Ski, rivolta ai ragazzi dai 6 ai 18 anni che praticano lo sci di fondo e discesa nel nostro territorio. L'evento si è svolto sabato a Crodo nella frazione di Verampio, dove c'è stato l'allestimento di un circuito su asfalto, dove i ragazzi si sono potuti cimentare nella gara non competitiva di Skirol, Skiro de Biaton, Carabina Laser. Non arrivare lungo, sfrutta la Promo Motori. A solo 5,90 euro per un anno vedrai le immagini della serata evento per il sessantesimo compleanno del Valli Ossolane, le dirette di tutti i rally locali e potrai accedere ai due canali TV e leggere tutti gli articoli. Approfitta della Promo Motori perché non ci sarà più.